Nuove ombre sul futuro della Lucchini. Nel giorno in cui le otto società interessate alla riconversione del polo siderurgico di Piombino avrebbero dovuto presentare al Ministero dello Sviluppo Economico le garanzie a sostegno delle loro manifestazioni di interesse, una di loro, la Svizzera Clash, ha preferito fare un passo indietro, ritirando seppur non formalmente la propria offerta. Il motivo, secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, sarebbe quello di non voler rendere pubblici i bilanci, condizione indispensabile per partecipare alla gara. Ma la vera tegola, piovuta sulla testa dei 4.000 operai della Lucchini, riguarda SMC, la società tunisina unica interessata a rilevare l'impianto così come oggi, è pronta sulla carta a investire un miliardo e mezzo sulla riconversione della fabbrica e altrettanto sul territorio circostante. Impegno importante per il quale per il momento però non ci sono garanzie. Il CDA della società dovrebbe dare il via libera a un aumento di capitale di 2 miliardi entro il 4 di aprile, ma potrebbe essere troppo tardi per presentare l'offerta vincolante entro la data che verrà decisa dal Ministero martedì 25 marzo, al termine di un tavolo a Roma con tutti gli interessati. Le nubi però non riguardano solo la solidità economica della società tunisina. Come riporta sempre il Sole 24 Ore, il giordano Khaled Al-Bahbè, titolare della holding, sarebbe stato condannato due volte negli Stati Uniti, una per truffa bancaria e l'altra per traffico di metanfetamine. Troppo anche per i sindacati che avevano riposto in SMC molte speranze per il rilancio di Piombino e soprattutto per il mantenimento dell'occupazione. Qui c'è un'opportunità unica per garantire all'Italia un'industria siderurgica sostenibile, ha detto Alessio Gramolati, numero uno della CGL Toscana. Ma bisogna tenere fuori speculatori e perdi tempo. Per il segretario della CGL però l'istruttoria su SMC non doveva farla alla stampa, ma il governo, che ha detto Gramolati, finora ha fatto solo lo spettatore.